50 anni non si festeggiano tutti i giorni, le chiedo che cosa festeggiamo dal suo punto di vista oggi esattamente e qual è il ruolo di Aceire di Calvisano all'interno del gruppo Feralpi? Solitamente quando si festeggiano i 50 anni anniversario di un'azienda io credo che bisogna guardare indietro quello che si è fatto, le nostre radici, ovviamente guardare anche le persone che sono passate qua, hanno lavorato per noi e che purtroppo magari oggi non possono essere qua in mezzo a noi e naturalmente anche guardare quelle che sono le nuove sfide. Ci troviamo in una congiuntura molto complicata, complessa, con tante problematiche, le chiedo qual è il suo punto di vista sull'andamento del mercato in particolare per quanto vi riguarda il mercato del tondo? Allora adesso noi abbiamo ovviamente noi come gruppo Feralpi abbiamo lanciato una sfida importante che è quella di investimenti oltre 400 milioni di euro di chi una parte all'estero, una parte in Italia, una parte di questi investimenti verranno anche fatti riguardo all'energia rinnovabili, energie alternative per poterci anche autoconsumare questa energia, per cui siamo molto in questo momento impegnati non solo all'interno dei nostri stabilimenti ma anche a guardare quello che succede fuori. Ovvio siamo in un momento abbastanza difficile, abbastanza critico per quello che riguarda un po' tutto il complesso che è venuto a generare dal conflitto con l'Ucraina, dalla guerra sul gas, dalla guerra sull'energia, noi speriamo che l'Europa trovi veramente una sua identità, sappiamo le difficoltà che ci sono ad esempio a mettere un prezzo del cap sul gas, speriamo che dopo il 25 di settembre questo paese ci sia un esecutivo che guardi alle politiche dell'impresa, alle politiche del lavoro, alle politiche della famiglia perché questo è molto importante, perché c'è anche una tenuta sociale. Penso che tutto sommato il gruppo Peralpi stia facendo il suo dovere, è un modello da questo punto di vista ma credo anche che abbiamo bisogno anche di tutto un supporto, il supporto deve venire dal nostro paese ma deve venire anche molto dall'Europa. Infine le chiedo il 2021 e anche una prima parte del 2022 è stata soddisfacente dal punto di vista dei risultati, qual è invece la sua visione per quanto riguarda l'ultimo trimestre dell'anno? Ma allora il 2022 i primi sei mesi sono stati sicuramente soddisfacenti, abbiamo davanti un autunno-inverno che evidentemente oggi non lo conosciamo dal punto di vista energetico perché qui il prezzo di energia cambia di giorno in giorno, per cui abbiamo delle incertezze, abbiamo davanti credo un 2023 difficile, se i dati che oggi stanno girando sono di un meno 0.6, meno 0.7, beh non è più un rallentamento, è una recessione, è chiara questa. Per cui andiamo di fronte a un periodo sicuramente difficile e credo che qui sarà molto importante, molto importante anche quello che il nostro governo dopo il 25 settembre riuscirà a mettere diciamo in piedi, ecco perché qui ci vogliono misure non solo congiunti, non sono misure strutturali, ecco noi abbiamo un problema sull'energia e sul gas strutturale, non è un problema congiunturale. Grazie a tutti.